Grazie a tutti. Si inerpica come un'edera, si avvinghia come un'edera, si abbarbica come un'edera. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dell'edera e adesso andiamo a scoprirla subito subito. Dobbiamo andare nel sottobosco e ovviamente andare a vedere sopra altre piante. Sì perché l'edera è una pianta rampicante. Non è in grado di sostenersi da sé. È una vera e propria liana. Il suo sistema di ancoraggio si basa sulle radici avventizie che quando sono molto sviluppate assomigliano a una barba lungo il fusto, completamente diverse dalle radici che si sviluppano nel terreno. A contatto con la corteccia di un albero o di un muro producono una sostanza collosa che si indurisce facendola aderire così bene che il più delle volte quando si tenta di strapparla è il fusto dell'edera o l'intonaco del muro a rompersi. Inoltre alcuni peli radicali si insinuano nelle microcavità del sostegno, seccandosi si avvitano su se stessi con un effetto simile a quello di vite e tassello in un muro. Come dire, Spider-Man, scansati. È bene ricordare che l'edera non è una pianta parassita, in quanto le radici avventizie non prelevano alcun nutrimento dall'albero a cui si attaccano. La competizione con l'albero è per il raggiungimento della luce. Uno spiccato dualismo sia simbolico che ecologico contraddistingue l'edera. Al tempo degli antichi greci veniva accostata Dioniso, il bacco dei romani, e la sua controparte era la vite, pianta del trasporto mistico e al tempo stesso del trasporto amoroso-passionale. Prospera nella penombra, ma solo raggiunta la luce, fiorisce e fruttifica. Anche le foglie in base alla luce hanno una duplice forma. È il risultato della eterofilia, plasticità morfologica che conferisce alle foglie che crescono in alto, ben illuminate, una forma romboidale, e a quelli che crescono in basso la più conosciuta forma palmata. Tradizionalmente, per chi gestisce i boschi, è un infestante, e in molti durante le loro passeggiate portano con sé un coltellino, proprio con lo scopo di tagliare l'edera alla base per farla seccare. Da altri è tollerata, in quanto elemento utilissimo per la fauna selvatica, soprattutto nella stagione fredda. Tra le foglie sempreverdi alcuni uccelli si nascondono e passano la notte al sicuro. Tra settembre e ottobre fiorisce, ed è apprezzata dagli impollinatori. I frutti maturano in inverno, e sono fonte di sostentamento per la vifauna svernante. Per l'uomo, queste bacche bluastre sono discretamente tossiche, quindi meglio evitare uno spuntino. Gli alberi che si schiantano al suolo a causa dell'edera potrebbero apparire in qualche modo sprecati e una fonte di disordine nel bosco. Eppure, si tratta di un processo naturale, e dal punto di vista ecologico creano all'interno delle foreste maggior varietà ambientale. In conclusione, vediamo i contro e i pro per la presenza di edera nei nostri boschi. Contro, l'edera talvolta compete per la ricerca di luce con la pianta sulla quale cresce, anche se molto difficilmente la porta a un grave deperimento. Le fronde sempreverdi dell'edera aumentano la resistenza al vento, e l'albero ospitante rischia seriamente di essere sradicato. Alcuni ibridi e sottospecie di edera diffusi dall'uomo sono invasivi, e nel sottobosco inibiscono la crescita di fiori e funghi. Pro, negli spogli boschi invernali, l'edera offre un riparo prezioso per il sonno dei gufi e di molti passeriformi silvani. Nella bella stagione, invece, codibugnoli, scriccioli e petti rossi ringraziano la sua affolta copertura, che gli permette di nascondervi il nido. In una stagione povera di fioriture, le api e un numeroso stuolo di insetti approfittano dei fiori autunnali dell'edera per sostentarsi. Le dolci bacche dell'edera maturano in inverno, rappresentando una fonte alimentare insostituibile per tordi, merli e capinere. L'edera è rigogliosa, rustica, aggraziata.